Questa invece si intitolò Luke and It e in qualche modo parla anche di noi questa sera che ci siamo cibatti, ci siamo divertiti e abbiamo lasciato un sacco di padelle, pentole piene di roba da mangiare, molto buona e speriamo non vada buttata, quantomeno a doppi luminosi, isola pedonale la gente ha soffocato il senso logico delle spese di Natale sul pavimento, scontrini e sigarette riscontro abbondanza di stipendi da buttare e stress accumulato a palate da placare e novembre il nuovo mese di Natale padrone dacci fame abbiamo troppo da mangiare padrone dacci un po' di fame la sazietà non ci basta più la sazietà non ci basta proprio più sentiamo mancanza di bisogno da soddisfare la prima sigaretta giusto per provare la seconda per farcela piacere un pacchetto per fumare la terza e la quarta e così via per non smettere più padrone dacci un po' di fame e non ci toglie l'abbondanza darci solo la sua e passione non ci devi soddisfare ma trovarci una ragione per continuare a masticare per continuare a consumare padrone dacci fame padrone dacci fame abbiamo troppo da mangiare padrone dacci un po' di fame la sazietà non ci basta più 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 il paradosso di chi non ha più fame Ma no, non vuole rinunciare al piacere di mangiare Un mondo che avanza e non vorrebbe più avanzare Padrone d'arci fame, abbiamo troppo da mangiare 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 Padrone d'arci fame troppo da mangiare la sassietà non ci basta più la sassietà non ci basta più la sassietà non ne portiamo proprio più la sassietà può essere a trend appena siete tutti amanti c'è chi chiamano e dici sono pronto sono la redazione di amici oppure di taglia a sgottare e tu rimani e dici dove vanno prima però il famoso salto decidi di fare qualcosa che non riesci a governare o se no provi a rimanere su quella linea su quella linea noi stiamo vedendo che è leggermente sostenibile e noi a zero perché il costo di tutto quanto più o meno però è un investimento che fate su esatto bravissimo allora noi diamo il 200% perché noi non stiamo venendo qua per i soldi lo stiamo facendo perché per investire sul futuro per un messaggio ma è giusto che sia così per essere così invece secondo me una volta se no veramente andavo ad amici io lo facevo per essere famoso è una scelta comunque ti stringevano come un limone per 3-4 anni ti facevi i soldi però là non ti dà soddisfazione se sei un artista ti dà soddisfazione sei un mezzo sei un mezzo esatto quando si parlava del pubblico caldo freddo poi alla fine c'è anche tutto il resto non solo il pubblico ci sono i gestori dei locali che ti chiamano il fonico c'è il rapporto con tutti spara di freddo dove non posso viene accorto e là è sorprendere il fatto della sicurezza che poi ti dà c'è la gente perché vedi in questa circostanza penso che sarebbe tranquilli per dire quando siamo arrivati a presto non c'è che siamo messi a ballare il paradosso di chi non ha più fame ma no non vuole rinunciare al piacere di mangiare un mondo che avanza e non vorrebbe più